ok ragazzi continuiamo allora eravamo rimasti dobbiamo andare alla locanda credo almeno giù lei era lei veri ho E' super molletto Ho voluto fare la ganza Ora ti attacchi Tipico comportamento di una donna Puffo ti faccia fino alla fine quel che si merita allora bar 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 Grazie a tutti. Allora, torniamo a Madrilla. Allora, torniamo a Madrilla. Allora... 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 I gomblotti... Allora... 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 Grazie a tutti. 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 Ma sto giro l'ha presa, non si sa perché Al secondo piano non andava bene, al terzo sì Grazie a tutti